Sti vaso su bucchia Buona serata a tutti, siamo in diretta e in diretta registriamo gli spot per l'applicazione nuova RTC targato Napoli Jukebox che potete scaricare se siete Android Adesso prima di presentarvi il testimonial vi guido passo passo e vi spiego su come fare per scaricare l'applicazione Allora dovete entrare chiaramente se siete Android nel vostro Play Store e scrivere per intero RTC targato Napoli Jukebox Vi ritrovate davanti ad una schermata del genere, a quel punto quando l'avete scaricata cliccate su apri e aprite l'applicazione E vi ritrovate in più sezioni, attraverso questa applicazione avete la possibilità di ascoltare la radio Ecco qua, ascolta RTC targato Napoli ma avete anche la possibilità di richiedere le vostre canzoni preferite C'è una sezione con tutti gli artisti della musica napoletana che adesso Antonio vi mostrerà Come questa, ecco, lista come questa, leggete, Sannino, Anthony E poi c'è una lista infinita di canzoni Voi scegliete la vostra canzone preferita, cliccate, cliccate su, cliccate su Prenota E in questo modo riceverete sul vostro smartphone, appare, ecco qua, Prenotazione e canzone La tua prenotazione è stata accettata e dopo al massimo 10 minuti, perché poi dipende anche da quante prenotazioni ci sono Voi ascoltate la vostra canzone in diretta Ci tengo a dire una cosa importante, che scaricare l'applicazione è gratuito e richiedere le canzoni è gratuito Allora, avevo bisogno di una serie di testimonial che venissero qua a metterci la faccia per la nostra applicazione E questa volta tocca a Gino D'Aminci Buonasera, buonasera, felicissimo, felicissimo di essere qua con te Senti un po', come stai? Bene, bene Stai dentro la televisione, eh? Certo, meno male che sono dentro No, sei dentro la televisione Sì, sì, bella sta sedia È un mostro, questo uomo è un mostro È un mostro, no, 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 dico non di faccia, è un mostro di talento È una roba pazzesca Grazie, molto caro In quale altra cosa sei un mostro a cantare? In quale altra cosa sei un mostro nella vita, tu? A fare guai Del tipo, scendiamo nel dettaglio Eh, va bene Fammi un guai in onda, ti prego, fammi un guai in onda Per esempio, involontaneamente a volte dico magari una cosa che mi dice mio fratello Lo dico a mia madre che magari me la dovrei tenere per me E io con la semplicità più assoluta Sai mamma, è successa questa cosa E Franco, ma no, Franco mi dice, ma perché ce le rit? Ecco Questa è una delle cose E che Franco, la reazione di tuo fratello Franco poi Ma no, Franco, ma no, perché ce le rit? E basta, finisci Basta, finisci Ecco, in giù ci fai? No, quelli no, quelli no, quelli no Perché sono, sono, non è, diciamo che a chi si è come se fossero un giudice Però è relativo Ecco Perché comunque alla fine nella semplicità delle cose, sai Tu vedi a mamma, io confido una cosa Io così faccio, di solito, e succede così Salvatore invece fa faccia stranita così No, 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 basta Come fa Salvatore? Andate un attimo su Gino Da Vinci Voglio vedere a faccia di Salvatore No, perché sa, lì poi ci agite sta cosa a mamma No Oh, no Tene una faccia seria Allora, per i cittadini del mondo Questo signore, per chi lo vedesse la prima volta Si chiama Gino Da Vinci Fa parte di una famiglia notissima Grazie Della musica napoletana Grazie Ma lui è meraviglioso Grazie Lui è il cantante, lo dico senza paura di essere smentito Più internazionale che noi abbiamo Sulla scena della musica napoletana Grazie Quante volte ti ho ripetuto Fa, cioè, quante volte ti ho ripetuto Fa una valigia e va tenna Cioè, nel senso, vai a cantare per il mondo Eh, lo so, ma io l'ho fatto per anni più piccolino Con papà, insomma, voglio dire Poi, tra le altre cose, oggi non è più il tempo di una volta Purtroppo oggi c'è bisogno veramente del canale Per fare delle cose Una volta, invece, era più spontanea la cosa Cioè, c'erano tanti siciliani Tanti calabresi, tanti pugliesi Che avevano nostalgia della canzone napoletana E quindi ti chiamavano più facilmente Nelle loro serate Organizzavano, insomma, io ho toccato l'Australia Ho toccato gli Stati Uniti d'America Ho toccato la Germania La Francia La Spagna Io ho fatto Tenerife Che meraviglia Penso che forse nessun cantante napoletano ha fatto Tenerife Ma io l'ho fatto così per caso Ma qual era la faccia di quelli a Tenerife mentre tu cantavi? Ma erano tanti napoletani Quindi era facile Io credevo di portare un repertorio classico napoletano E all'improvviso Per esempio C'erano qualcosa che dice No, ma tu mi cantassi troppo importante No, Dio santo Dicevi con me Non ci capis Il capo gli portano Asili Maggi E cioè Perché sai All'estero così è Ricordano queste canzoni E fortunatamente Trovai anche Chi conosceva le mie canzoni Bene Allora Lui c'ha un repertorio vastissimo E devo dirvi una cosa Noi siamo due attempati Cioè Abbiamo superato Credo I 45 anni Ma questo signore qui C'ha un repertorio Che tutti i giovani Tutto il popolo napoletano giovane Ma soprattutto Anche la nuova generazione Dei nostri cantanti Tutte le canzoni Di questo signore qua E conosce A memoria Le cantano tutti E molte volte Mi sento dire Come l'avessi voluto Cantare Che è la canzone E c'è una canzone In particolare Se il caro Pino Fontana Mi agevola Il file Mi fa piacere Grazie 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 Ah che meraviglia Anche questa canzone Potete richiedere Sulla nostra applicazione Se la scaricate Se siete Android Scaricare l'applicazione Non vi costa neanche un centesimo E anche richiedere Le vostre canzoni preferite Non vi costerà neanche un centesimo Sezione Canzoni Cercate Stunnamorate Vi esce Gino Da Vinci Con tanto di fotografia Meravigliosa Prenotate vicino alla canzone E la ascoltate in onda Dopo pochissimi minuti Senti Ah ti volevo dire Che c'è anche una classifica E poi Chiaramente la gente È importante È importante No perché la gente Richiede le canzoni Queste canzoni Finiscono in automatico In una classifica Che adesso Antonio mostrerà Classifica tipo Chiaramente Perché qui le classifiche Si aggiornano Minuto per minuto Giorno per giorno Anche perché Voglio dire Se ti svegli alle 4 del mattino O sei per strada Alle 4 del mattino E ti viene voglia Di richiedere una canzone In particolare Perché stai solo in auto E tavo sentì Attraverso l'applicazione Si può fare Quindi la classifica Si aggiorna In continuazione Questa per esempio È una roba tipo Semba stessa Ecco Per tutti gli spot Molto bene Vedete che al secondo posto C'è sempre Antony Nata parte me Senti caro Tra l'altro Gino Da Vinci Sta preparando un disco nuovo Ci tengo a dirlo Io in anteprima Sul telefonino C'ho una canzone Meravigliosa Che potrebbe già uscire Sul mercato Perché è perfetta Ma in realtà È un provino Posso dire il titolo? No Ah no? No Come no? No perché No perché Ti spiego Perché io Io ci tengo moltissimo Tu sei l'unico Che hai questo pezzo Perché La stima e il rispetto Per l'amor di Dio Senza offesa a nessuno Perché sei scaramantico Sì Noi abbiamo Abbiamo un'amicizia diversa Ti prego parliamo di scaramanzia Un attimo per il mondo Che fai tu contro Il malocchio Quelle cose là Insomma No no vabbè Non è che io sovvivo proprio L'occhio in buona No no Io so So per certo Che comunque Quando si esce di casa Ci sta sempre per esempio No niente Non ne ha pensato a nessuno A camminare rite Perché Solo uno sguardo Può comunque Secondo la mia mentalità Insomma Capite? Ecco Ci capite? No 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 Nel senso Come è a camminare rite? A camminare rite E si è un saluto Io quando Sì no 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 Guarda io Anticipo il saluto Ah sei tu ad anticipare Sì su Senza perdere di Ah ho capito Ah magari Chi li tuttano mai Con quella cosa Però con buona ragione Che chissi Ah Quindi Aspetta È una questione importante Di energia Certo Di energia positiva Che deve passare Di viso in viso Di mano in mano Certo No no La mano no Perché sennò Tutti i miei Sarebbero Insomma Un caos Però per esempio Passa annanze Per esempio A due Carmoniella Passa annanze A due Antonio Passa annanze Passa annanze A Tannarella Passa annanze A Tupinuccia A due Titte Che poi Siamo cresciuti insieme Non è per loro Questo discorso Però Ovviamente La gente Che è il tuo primo piano Il secondo piano C'è sempre qualcuno Che ti guarda Non c'è niente da fare Io dico che L'invidia È una cosa Che è innata Nell'essere umano Per cui Allora Automaticamente Io per anticipare Questa cosa Per anticipare Ma un momento Ipatico Allora per esempio Buongiorno signora Marie Allora per dire Buongiorno signora Marie Adesso prima di farti fare Lo spot A favore Della nostra applicazione Facciamo una bella serenata Chi in questo momento Si trova a Tenerife E ci guarda Attraverso Facebook Attraverso tutte le piattaforme possibili Perché siamo dappertutto E voglio che tu lo sappia Questo per chi dice Che io sono molto locale C'è che devo cantare Una serenata Sì Devi cantare Per i cittadini del mondo Voglio salutare anche Un momento No Un momento Un momento Fammi fare la presentazione Un momento Che accordo questo strumento Fammi essere molto locale Molto local Allora dicevo Per chi si trova In qualunque parte del mondo Iacantatus importante Gino Iacantanu classica Che ne so Ti ho detto la serenata Dobbiamo essere local Molto bene Allora Signori per voi nel mondo A serenata I Gino Da Vinci Sì troppo importante Sì tutto per me Anotte non dormo Pensando a te Ma sono a te Che sei ormenni Da studi E sei ormenni A fianco a me E qua Basta Basta Sei fantastico Sono arrivati Quanti a Cilanna Caccia Guarda sei il numero uno Ma sei veramente Io ti amo Tu lo sai Grazie Non posso dire troppe cose belle Perché poi vengono altri cantanti Tutti bravi Tutti bravi Tutti bravi Bravo Signori Stringete Anzi Eravate strette Su Gino Da Vinci Perché adesso lui farà Dammi questo a me Perché lui farà uno spot A favore della nostra applicazione Ti ricordi tutto RTC Targato Napoli Eh sì tutto a poco A favore di meno poco Uno Due Tre Lo spot RTC Targato Napoli Jukebox Scaricate quest'app Per tutti quelli che hanno l'Android Perché solo con l'Android funziona Per cui voi prenotate la vostra canzone Entro 5-10 minuti al massimo Considerando le richieste precedenti Ascolterete la vostra canzone preferita Ma che bellezza Ti è piaciuto Ma che bellezza Siamo affascinati Nella mare No E basta E buona la prima Ti saluto Ci diamo appuntamento Durante il corso dell'anno Noi stiamo registrando E siamo in diretta Durante i primi giorni Di gennaio del 2018 Però durante il corso del 2018 Finalmente Aspettatevi un disco nuovo Di Giro Da Vinci Certo Per il 14 febbraio Credo di uscire Con il primo singolo sul mercato Famelo dire questo Ed è un pezzo di Sergio Donati Testo in musica Quindi un abbraccio a tutti E ci sono tanti autori Come Caradonna Il carissimo amico Caradonna Il carissimo amico Marco Ponti Con altri due personaggi Che non mi ricordo Perché non sono tanto comuni Poi ci sarà ovviamente Insomma Checco D'Alessio Per cui un abbraccio particolare a loro Che mi sono sempre vicino Amichevolmente e fraternamente Sì Grazie a te Prima di salutarti Ti volevo chiedere se ti piace la giacca Bellissima 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 Fammi dire Ginzeria Piazza Kennedy Aqualiano numero due Che veste tutti gli uomini della Campania Di tutte le taglie Dalla 46 alla 56 L'abbigliamento è trendy È cult E soprattutto ci sono le promozioni Tutto l'anno Ma raccomando Eh Iatallah Perché se non dice Te repete la loro A gusto Un mostro Tu si lo mostra Grazie Adesso il video di Stivasa Sobuccia Stato bene Grazie a tutti Grazie a Fratelli Marigliano Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie.